La Coppa Italia di calcio prosegue mercoledì con altre tre sfide. Si parte alle 15 con Atalanta-Avellino. I Bergamaschi non stanno passando un bel momento di stagione. Il Genoa di Gasperini, rivelazione del campionato e al terzo posto si apura in condominio con il Napoli, affronta la trasferta di Empoli alle 18. Infine, alle 21, l'Udinese, dopo il capo con il Milan, affronta al Friuli un Cesena sempre più nei guai.